Ciao ragazze, benvenute o bentornate nel mio canale questo è un video review sulle ultime due uscite in casa Kiko ovvero la Fruit Explosion e la Dolce Liva e mi sono presa del tempo, insomma non ho registrato subito questo video rispetto ad altri youtuber perché mi sono presa del tempo per poterle testare i prodotti al meglio ho preso dei prodotti che comunque reputo interessanti in entrambe le collezioni quindi ho deciso di fare un'unica review raggruppando entrambe le collezioni comunque una notizia positiva per voi e che ho visto che recentemente Kiko le ha messe in sconto quindi se pensate di acquistare qualche prodotto di queste collezioni almeno voi risparmiate qualcosina niente, detto ciò, let's go, partiamo anzi, ma prima vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanella se il video vi piace lasciatemi un like e se vi va commentate e fatemi sapere anche voi la vostra recensione personale sui prodotti detto ciò, let's go! ok, le cose che ho deciso di prendere di questa collezione per il momento sono queste quattro cose tra cui anche un set di pennelli e la collezione appunto è Fruit Explosion richiama comunque la frutta c'è la frutta ovunque molto graziosa devo dire i colori dei pack secondari comunque virano sull'arancio il giallo e il rosso e c'è anche il verde e già vi anticipo che prossimamente vedrete anche la parte 2 dove ho acquistato altre cose ne sono approfittata degli sconti e ho fatto un ordine da Kiko che mi arriverà presto quindi già vi anticipo che ci sarà una seconda parte il mini set è fatto in questo modo non riesco a farvelo inquadrare per bene nel video sorry comunque fatto con questo astuccio molto carino che richiama sia i colori che il tema che appunto è la frutta vedete in ecopelle e qui dietro ci sono tutte le frutte possibili e immaginabili a calamita e si piega vedete così in questo modo c'è una calamita all'interno e poi si apre con una zip e all'interno troviamo due pennelli eccoli qui uno da viso e uno è un pennello per applicare gli ombretti entrambi i pennelli hanno anche queste coprisitole trasparenti che si possono riporre facilmente e anche soprattutto togliere facilmente questo pennello è per il viso come ho appena detto con questo taglio a ventaglio che a me piace usare per fare il contouring perché mi permette di essere molto precisa le setole sono sintetiche e il manico ha l'effetto come potete ben vedere in trasparenza e con il manico insomma anche in sotto in fucsia questi pennelli devo dire mi sono piaciuti molto sono soffici ed è veramente un piacere truccarsi con questi pennelli le ho già usati un paio di volte le ho lavati e per ora non mi hanno dato problemi e non hanno perso setole altra cosa che mi entusiasmava di questa collezione sono le sue matite occhi perché sono veramente dei colori favolosi e Kiko veramente stavolta ha sfornato delle bellissime matite per quanto riguarda i colori e io ho preso la 1 e la 2 questi sono i colori la 1 e questa qui oro e la 2 questa corallo e anche dal pack sembrano leggermente diverse questa oro non risulta così trasparente come invece è questa qui oro questa qui corallo scusate adesso vi faccio vedere gli swatch ok questi sono gli swatch sono matite automatiche dall'effetto matt la texture è cremosa e si fissano velocemente però come potete ben vedere dallo swatch la 1 è diversa dalla 2 corallo la 2 è matt mentre questa è molto più luminosa e risulta metallica secondo me comunque queste matite sono molto diverse probabilmente caratterizzato dal loro finish diverso perché questa oro all'interno occhio non scrive un granché però all'esterno occhio è veramente bella mentre questa corallo è l'opposto è molto scrivente all'interno occhi però all'esterno fa un po' l'effetto palpebre ringrinsite insomma che un po' l'effetto che cade un po' di prodotto a pezzettini tipo non so come spiegare però comunque veramente fa un brutto effetto sulle ad esterno occhio comunque in definitiva penso che la scrivenza di queste matite è buona però entrambe hanno uno scopo diverso infatti vi anticipo che con i saldi ho voluto rischiare tra virgolette ho preso anche altre colorazioni perché nonostante ciò devo dire che i colori di queste matite sono molto belli e quindi non vedo l'ora di testare anche altre matite chissà forse la mia è fallata non lo so comunque stay tune poi da amante degli illuminanti ovviamente non potevo non prenderne uno io ho preso il colore uno golden dream c'era anche quello corallo se non erro il numero due anche quello molto carino però per non rischiare magari risultava troppo scuro su di me visto che sono bianchissima e ho optato per questo il numero uno il pack è fatto in rosso richiama non so un'anguria un lampone non lo so comunque il colore che ho preso io è un dorato il pack è grazioso ma allo stesso tempo c'è cheap si vede trovo che sia di un materiale cioè scadente di certo non ti fa pensare al lusso non hanno uno specchietto all'interno e sul sul il pan c'è questa ci sono questi impressi questi lamponi ed è anche arricchito con estratto di lampone quindi profuma di lampone e non vi ho detto che è un illuminante cotto questo è lo swatch sulla mano che dire allora al tatto di sicuro non è super setoso come siamo abituati a vedere negli ultimi tempi però dà un effetto radioso sulla pelle facile da sfumare si fonde con la pelle regalando una luminosità diffusa infatti non è un illuminante strong vi deve piacere un po' questo effetto bagnato un po' baciato dal sole infine altra novità in casa Kiko e se non erro non è mai uscita Kiko con un olio labbra e quindi mi ha suscitato molta curiosità e l'ho preso questo che ho preso io è lo 01 insomma che è arricchito con scorza di arancia che si può ben vedere dal pack molto carino col tappo in argento lo scovolino è fatto in questo modo tagliato così e devo dire che mi piace perché abbraccia bene le labbra mette il prodotto con precisione la profumazione all'arancia è delicata e nel corso delle ore va via non appiccica ma anche perché è un olio per questo non appiccica ed è confortibile il risultato però non è super brillante e trovo che non abbia un potere idratante elevato prodotto carino ma senza infamia senza lode finita la fruit explosion adesso scopriamo insieme l'ultimissima collezione dolce diva che è questa effettivamente la collezione estiva perché la fruit explosion mi sembra di capire che era solamente una capsule e spesso Kiko fa queste sorti di collezioni tra virgolette e sto facendo cadere tutto mannaggia comunque i colori di questa collezione i pack esterni sono in bordeaux in blu royal e in avorio ed entrambi hanno questi dettagli intrecciato insomma che somiglia tipo fa l'effetto paglia ricorda un po' quegli anni sessanta con queste catene in oro e questa collezione devo dire che già dai pack è un po' più curato e se vogliamo un pochino più lussuoso di questa collezione ho preso il blush questo è un blush cotto dal finish luminoso io ho preso la colorazione 3 e all'interno abbiamo sempre la solita cartina che io però ho già testato i prodotti quindi ho buttato tutto e il pack primario anche richiama lo stesso colore del pack secondario e anche il pack di questo prodotto ha questa trama intrecciata in rilievo che ad essere sincera non mi fa impazzire ho preferito molto di più quella della la linea lo stena maffi la collezione estiva passata e devo dire che anche i colori di questa collezione mi ricordano vagamente comunque i colori di quella collezione vi ho messo a confronto i colori questo è quello dell'anno scorso la lost in amalfi forse risulta un pochino più violaceo forse leggermente rispetto a questo che è molto più blu più scuro però devo dire abbastanza simili ecco non è che sia cambiato più di tanto all'interno come sempre che commette uno specchietto e poi questa è la cialda ci sono tre gradazioni di colore che non so perché dal cell non si vedono non si percepiscono comunque vira dal più chiaro al più scuro e io l'ho sempre usato così mischio il tutto e questo è il colore un bel malva al tatto è setoso è ideale d'estate perché arriva all'incarnato donando un effetto bone mine è facile da sfumare ed è leggero sul viso ma è modulabile quindi lo si può stratificare rendendolo più intenso però attenzione perché essendo molto luminoso va ad evidenziare le varie discromie che possiamo avere sul viso però comunque in definitiva a me è piaciuto è un blush un pochino diverso dal solito anche il colore devo dire è proprio un blush perfetto per l'estate poi altra novità che tra l'altro da Kiko non ho mai acquistato sono i prodotti sopracciglia e questo in particolare è proprio un gel per sopracciglia e io l'ho preso nel colore 2 e andiamo a vedere il pack è un po' più basic che riporta questo tappo in oro e il colore è questo qui è abbastanza freddino questo è lo swatch devo dire è perfetto per me che comunque adesso ho dei riflessi biondi all'interno e allora che dire di questo prodotto ha un'elevata pigmentazione colora e fissa bene le sopracciglia mi piace il fatto che è facile da usare impiego pochissimo tempo per farmi le sopracciglia basta avere solo un po' di accortezza nel prelevare poco prodotto per volta così e così ha un risultato più naturale e definito anche perché tende a fissarsi in fretta e quando si fissa risulta comunque al tatto indurisce un pochino le sopracciglia insomma se vi deve piacere questo effetto altra nota positiva è che è assolutamente resistente all'acqua tenta che devo rimuoverlo con uno struccante bifasico l'unica cosa negativa a parer mio ovvio è il pennellino di questa forma diciamo come potete vedere allungata che non è sottile quindi non mi fa essere precisa alla stesura soprattutto alla parte finale delle mie sopracciglia ci sono pennellini attualmente in commercio molto più sottili e che li preferisco di più per il mio tipo di sopracciglia quindi diciamo vi deve piacere oppure magari dovete applicarlo con un vostro pennellino preferito molto più sottile e niente e al tatto come ho detto le sopracciglia risultano durette anche perché è un prodotto fissante però in definitiva niente male questo prodotto adesso arriviamo al momento secondo me clou del video di questa collezione ovvero la palette occhi io ho preso una ne sono uscite due in realtà io ho preso la 01 stylish coral che secondo me è quella più estiva che proprio richiama l'estate se vogliamo è quella che c'entrava di più proprio col concept estate anche questa la stessa trama in rilievo e anche questo mi ricorda comunque in questo bianco madre perlato anche questo mi ricorda la lost in amalfi proprio vagamente e anche qui vi ho fatto il confronto questo è il blush dell'anno scorso della linea Nostina Murphy il colore è praticamente identico solamente che quello dell'anno scorso ha più un effetto madre perlato mentre questa la palette è più diciamo un effetto doratino ma è più satinato comunque la palette che ho scelto io è quella dai toni più caldi è fatta in cartone rigido abbastanza sottile perfetta per i viaggi devo dire questo è il retro e all'interno ha quattro cialde due matt un foil tipo duo chrome molto particolare quel colore e uno shimmer all'interno ha un mini mini specchietto molto piccolo non è molto comodo sinceramente comunque per i viaggi potrebbe andare più che bene e all'interno come vabbè lo hanno detto in tutte ma solo all'interno è molto cioè molto simile è un'imitazione delle mini palette di Charlotte Tiburi che io non ho e all'interno qui c'è il nome della collezione e queste sono le cialde qui sopra due matt questo è il colore più particolare di tutta la palette e questo è il colore shimmer questi sono gli swatch di tutti e quattro i colori devo dire tutti i colori super setosi al tatto però i matt non hanno un buon rilascio colore soprattutto il corallo devo dire che rispetto alle palette che si notano adesso ci sono sul mercato ecco queste non sono tra le più scriventi che abbiamo visto ad essere sincera però il corallo soprattutto a me fa dei problemi sarà che ho la palpebra pigmentata quindi secondo me oltre al primer comunque va messo anche un color burro per andare un attimino a schiarire prima la palpebra e poi passare insomma mettere questo colore invece i colori gli ultimi due questi qui super luminosi a mio avviso comunque li preferisco di più sono molto luminosi e durano molte ore il colore in basso questo qui risulta come se fosse una sorta di crema questo qui tipo duochrome è veramente bellissimo proprio toccarlo al tatto si applica bene anche con un pennellino dalle setorle fitte però fa molto fall out devo dire quindi attenzione nell'applicazione e come sempre vi consiglio di truccare prima gli occhi e poi la base la palette in sé è carina mi piace il concept di certo non è la palette più pigmentata che abbia mai provato però ho notato che Kiko ha migliorato la qualità degli ombretti quindi ecco non me la sento di bocciarla comunque è carina e la utilizzerò la userò sicuramente nei miei viaggi poi passiamo alle labbra con questo rossetto liquido io l'ho preso nel colore 05 che tra tutti mi sembrava quello più particolare come colore anche se forse proprio il colore non richiama molto l'estate però vabbè mi piaceva ha questo dettaglio in madreperla molto bello devo dire e il tappo in oro questo pack devo dire comunque nel complesso mi piace molto questo è lo swatch devo dire sì che comunque è un colore più che estivo è più autunnale ha una punta di malva sì che lo rende senza dubbio ha un colore più invernale e niente che dire di questo prodotto e allora il colore è bellissimo ma è disomogeneo magari qui non lo si percepisce ma sulle labbra vi assicuro che disomogeneo devo fare comunque almeno due passate e proprio perché non ha un rilascio colore estremo come dice Kiko sul sito la formula è leggera è abbastanza confortevole però dopo poco già inizia a sbiadirsi ai lati quindi non resiste nemmeno ai pasti va via da solo anche solo se parlate la formula non mi fa impazzire c'è di meglio sul mercato inoltre trovo che non è proprio un rossetto liquido ma è più un rossetto e mousse forse un ibrido tra rossetto liquido tra rossetto e mousse perché non asciuga mai del tutto e proprio per questo motivo non resiste nemmeno all'acqua quindi altra cosa che non mi trovo d'accordo con Kiko secondo me questo prodotto è schippabile tranquillamente e infine vi parlo del pennello uscito in collezione questo è il suo nome è un pennello duo e il pack si presenta in oro semplicissimo se mette a fuoco ecco si presenta insomma in oro semplicissimo con le sitole sempre sintetiche da un lato abbiamo una parte con sitole fitte ideale per i fondi in crema o anche compatti e dall'altro un pennello con questa forma un po' rotondeggiante adatto per il bronzing per il contouring blush anch'esso comunque pennello viso ed entrambi sono usciti con questi coprisitole ma già da qui ecco è un problema perché una volta tolti vi dico la verità ho fatto anche fatica a toglierli per poterli usare cioè veramente difficile poi rimetterli il che non li vedo molto funzionali perché vedete cioè ciò mi fa aprire le setole mi fa rovinare il pennello quindi non lo trovo molto funzionale quindi non adatto assolutamente per i viaggi questo va riposto nel cassetto e stop praticamente quindi non è poco funzionale sinceramente questi cosini e in più soprattutto la parte con le setole fitte punge davvero tanto quindi non mi fa impazzire sul viso quindi secondo me prodotto anche questo schippabile non mi è piaciuto e niente ragazze questo video recensione termina qui ci vediamo presto con la seconda parte di queste collezioni kiko niente vi mando un grosso bacio e abbraccio alla prossima ciao